Un taglio del nastro atteso da mesi per la precisione dell'ottobre scorso, congelato dalla seconda ondata del Covid. Festa comunque solo rimandata perché ora Scafa e il comprensorio della Val Pescara possono contare su una nuova e funzionale piscina comunale di 25 metri, dotata di sistemi di filtrazione innovativi e di un impianto di ultima generazione per il trattamento dell'aria. Insomma un'opera pubblica molto importante con dedica speciale come sottolinea il sindaco Maurizio Giancola. Scafa finalmente una bellissima struttura dove i ragazzini potranno fare attività natatoria ma è anche stata un'occasione per intitolare l'intero centro al nostro compianuto massimo sportivo cittadino Mario Ottontodonati e poi un cenno di ricordo a un nostro caro amico che ha vissuto le idee e i progetti di questo circolo. Quindi una bella soddisfazione. È una struttura che noi mettiamo a disposizione non solo dei cittadini di Scafa ma anche dei cittadini, dei residenti dell'intero comprensorio. Alla cerimonia presente anche Giorgio Repetto, ex calciatore del Pescara, società che negli ultimi anni lo ha avuto anche come dirigente. Se le dico Mario Ottontodonati che cosa le viene in mente? Intanto una grandissima persona, modestissimo, umile, appassionato, gentilissimo e ho un grande rimorso che noi 40 anni fa onestamente non sapevamo la sua storia. Io l'ho conosciuta dopo e ho sempre avuto questo rimorso di non averlo, di aver avuto questo mito davanti senza sapere quale giocatore fosse stato. Perché Mario è stato non solo giocatore ma anche allenatore del Pescara, responsabile del settore giovanile, una vita nel Pescara. Sì, è uno di quei personaggi che ha costruito i giovani di Pescara che da sempre, lo voglio dire perché vedo che sembra che siano usciti solo ultimamente, ma dal Pescara sono usciti tantissimi giocatori e soprattutto tantissimi giocatori locali, molto forti e sono stati personaggi come Mario che hanno saputo trasmettere la loro esperienza e la loro capacità di insegnare a questi ragazzi. La piscina, costata circa 780 mila euro, è stata costruita grazie ai finanziamenti di Comune, Regione e Circolo Free Time che gestirà l'impianto in convenzione per 20 anni. Sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Per me è una doppia soddisfazione, uno aver convinto la maggioranza precedente di investire su questo impianto sportivo, la seconda essere riuscito a vederlo realizzato, è molto bello, particolarmente funzionale, è una grande risorsa, tutto a norma Covid, cosa che per le piscine non è usuale, ritengo che sia un fiore all'occhiello per tutta la provincia di Pescara e in particolare per la Val Pescara. Grazie a tutti.